Allora, innanzitutto, piove, anche. Qualche settimana fa ho fatto il bullo in bicicletta, cioè vuol dire che io ho una bici del caspita, che è lì, una bici da passeggio, mountain bike, diciamo, una mountain bike da passeggio, che mi ha regalato il vicino qua dietro. Mi piace andare in bicicletta, soprattutto in questi momenti qua in cui uno si può fare un cazzo, fare dei bei giri in bici mi fa stare bene. Due settimane fa, o tre, non mi ricordo perché, come ho già detto, non ho senso del tempo, ho fatto un po' il bullo in bici. Abbiamo fatto un giro, diciamo, dai, andiamo fin là, ma poi, ma perché non andiamo un po' più in là? Allora, fatto sta che alla fine della fiera abbiamo fatto 75 chilometri con la mia biciclettina e con le mie anzianità, diciamo, con le mie ginocchia, che, insomma... Insomma, non sono riuscito a tornare a casa da solo. A un certo punto, a 5 chilometri da casa, ho dovuto chiamare. Mi sono venuti a prendere perché mi faceva male il ginocchio. Per cui sono tre settimane che cammino pochissimo. In bicicletta non sono quasi mai andato perché mi faceva male il suo ginocchio, ho capito? Eh, non ci potevo fare niente. Oggi ero qui in casa che guardavo un milione di video, robe, imprenditoria, bim bum bam, metti le tasche a posto, fai video. Però dopo un po' andiamo a fare due passi. Cosa è successo? Che inizio a camminare, anche abbastanza veloce, e mi rendo conto che sto camminando veloce. E dico, aspetta, vai un po' a piano perché magari ti fa male il ginocchio. Poi me lo dimentico, rallento il passo, vado avanti, tranquillo, e dopo un chilometro circa, non ne ho fatti tantissimi in totale, mi rendo conto che non mi fa male il ginocchio. E che posso camminare. Come se fosse normale, ma fino a ieri non pensavo lo fosse. What I want to say Mi trovo spesso qui nel mio studio da solo, alla sera soprattutto, sprofondato nello sconforto di questo periodo bizzarro, in cui non si può vedere nessuno, si può fare poco o niente, le mie riserve economiche sono... E mi sento come se io stessi continuando a fare degli sforzi che però non portano a nessun risultato. Perché comunque sono qui giorno dopo giorno, che giorno è? È martedì, è giovedì, e chi se ne frega. Cioè non hai niente da fare, non fa tanta differenza, capito? Che capelli ho. Per cui questa passeggiata di oggi, con questo risvolto interessante, in cui mi sono reso conto che potevo ricominciare a fare le cose come le facevo prima, senza avere dei dolori, dei disfacimenti, dei problemi, mi ha fatto dire Hai visto? Mi ha fatto un po' di settimane a casa, hai curato un po' il ginocchio, e adesso non fa più male. E questo per me è stato un segnale interessante, perché ho pensato che allora un giorno potrei trovarmi fuori al bar a bere uno spritzio in santa pacchia con qualcuno che mi piace, e magari con due soldi in tasca, hai capito? E ho pensato arriverò a quel punto lì dicendo, ecco hai visto che rinunciare al suicidio anche per quest'anno Eh, per ora Sì vabbè adesso comunque vado a lavarmi perché, cioè, sono tutto bagnato, piove